Antonio Giudice, ieri incontro importante del centro-destra in prossimità della festività natalizia, come se tutti i più buoni si fa un patto comune? Assolutissimamente no, il proprio dialogo con il centro-destra è già partito subito dopo le amministrative del 2015. Ovviamente ieri abbiamo approfittato per farci non solo gli auguri di Natale, ma un po' per pianificare diversi incontri che avverranno nei mesi a seguire. A quell'incontro c'eravano tutte le forze politiche di centro-destra che rappresentano i presidenti nella città di Gela. Si è parlato principalmente della manifestazione che avverrà il 22 gennaio a Roma contro l'ennesimo governo fantoccio imposto dal PD, il governo Gentiloni. In concomitanza con la manifestazione noi organizzeremo una nostra manifestazione qui a Gela. Ma c'è un centro-destra compatto? E faccio anche una domanda più diretta. Esiste un centro-destra a Gela? Il centro-destra a Gela è sempre esistito, solo che abbiamo visto che ogni volta in prossimità delle amministrative il centro-destra si è sempre diviso. Portiamo adesso avanti questa unione fino alle prossime amministrative per evitare di ritrovarci di nuovo scomposti, ma fare fronte comune per le prossime elezioni. Cosa critichiamo? Penso che Messinese durante la campagna elettorale, non dimenticiamo che Messinese è espressione del Movimento 5 Stelle, ha fatto delle proposte, ha presentato un programma, un programma che fino ad oggi è stato disatteso. Se noi ci guardiamo intorno, anche in prossimità delle feste natalizie, vediamo che nella città non si respira per nulla aria di festa. Grazie a tutti.